lunedì primo novembre buongiorno a tutti e buona giornata di ogni santi noi anche in questa giornata di festa come ogni giorno siamo pronti puntuali alle sette per il nostro primo appuntamento in diretta con l'informazione uno spazio quello del mattino dedicato in particolare alla rassegna stampa in questa giornata in cui c'è un po di attesa per la conferenza stampa che è stata indetta in regione a trieste sul tema del covid si farà un po il punto della situazione in regione dopo l'aumento dei contagi e negli ultimi giorni e si cercherà di capire anche quali interventi saranno adottati per cercare di contenere questa ripresa dell'epidemia appuntamento e alle 11 nella serie della regione a trieste ovviamente noi seguiremo questo e tutti gli altri appuntamenti della giornata di cui vi renderemo conto nelle prossime finestre dedicate all'informazione in questa prima mezz'oretta in diretta come sempre diamo un'occhiata ai giornali eh di oggi ai giornali quotidiani alla stampa locale in primo piano soprattutto sulla stampa locale eh ci sono i temi del G20 al centro dell'attenzione di tutto il mondo in queste ultime ore G20 che si è svolto a Roma lo sappiamo tra i temi principali eh quello del clima e allora andiamo a vedere come la stampa nazionale racconta i risultati di questo importante vertice cominciamo con il corriere della sera clima accordo su più uno virgola cinque eh gradi tetto al eh riscaldamento ma senza una eh data per metà secolo c'è scritto nel documento finale del eh G20 Draghi eh definisce eh questo vertice i risultati di questo vertice un successo mille miliardi eh di altri eh alberi eh Biden rivendica la fine dei dazi sull'acciaio ora tutti a Glasgow eh dove è iniziato il vertice della COP26 e Johnson dice vietato eh fallire e poi vediamo la foto simbolo di questo eh G20 con eh i grandi della terra che lanciano una monetina nella eh fontana in una delle fontane di eh Roma eccola qua in primo piano sul eh corriere della sera questo il titolo di apertura e poi eh vediamo anche le altre notizie a centropagina in sei mila rave clandestino a Torino Lega e Fratelli d'Italia contro il eh Viminale posti di blocco feriti due agenti la festa non si eh ferma questo per quanto riguarda la eh cronaca e poi eh per quanto riguarda il covid il sottosegretario della salute Sileri parla della terza dose prima i eh prof dice ancora eh le prime pagine dei quotidiani nazionali la repubblica un passo avanti per il clima titola eh repubblica al summit di Roma intesa sul limite al surriscaldamento di uno virgola cinque gradi e sugli aiuti ai paesi eh poveri per Draghi è un successo ma Johnson eh dice l'accordo è in bilico Biden ottenuti risultati eh importanti e poi appunto vediamo dal G20 alla COP26 che inizia a eh Glasgow proprio in queste eh ore. Andiamo anche sulla prima della stampa della stampa vediamo anche qui in apertura la foto che abbiamo visto prima sul Corriere della Sera successo di Draghi ma spiccioli per il clima dice la stampa commentando appunto i risultati del eh G20 si chiude il G20 di Roma a tetto di un grado e mezzo al global warming però senza data precisa si parla appunto di metà secolo al via COP26 andiamo anche sulla prima del giornale briciole sul clima scrive il giornale ma accordo d'oro su dazi e affari fra delusioni e successi e questo il eh commento al risultato del G20 al G20 impegni e senza date su eh carbone alberi e riscaldamento. Asse Stati Uniti Unione Europea export più eh libero vengono tolti i eh dazi che eh Trump aveva imposto anche a tante importazioni negli Stati Uniti anche dal dall'Europa di spalla vediamo una fotonotizia che ci arriva da ehm Novara da Novara immagini sconcertanti lo scena sfilata di no pass che infanga la memoria della eh Shoah con delle divise che ricordano quelle dei deportati nei campi di concentramento e questa accorda che eh richiama anche il filo eh spinato. Chiudiamo il giornale andiamo su Libero Draghi prigioniero il G20 è un successo solo per lui e scrive Libero. Leader mondiali divisi quasi su tutto ma uniti nell'elogiare il eh Premier. Conte cede Mario Alcolle però no elezioni. La nostra politica non è eh come i summit il capo del governo eh rischia. Questa è l'apertura di eh Libero eh di oggi. Andiamo a vedere anche la prima del foglio che invece apre con eh un approfondimento, un'inchiesta come ogni lunedì, il peccato di Facebook eh titola il foglio. La storia non ci giudicherà con gentilezza. I documenti interni dell'azienda mostrano come il social network abbia messo in pericolo la democrazia americana e i suoi stessi dipendenti lo sapevano. La fame di potere sul mercato e la confusione tra libertà di palola e amplificazione algoritmica. Un'inchiesta del eh foglio di oggi. Vediamo anche il fatto eh quotidiano che apre con eh un'intervista al PM antimafia Nino Di Matteo ora al CSM. Di Matteo dice per noi l'ora più buia la legge Cartabia, la legge che riforma il processo penale viola la costituzione dice il PM antimafia. E poi vediamo tutte le altre eh notizie. Il fatto economico guarda al al alla cop 26 e più greggio e carbone la ripresa non è green dice il fatto economico eh del eh lunedì che eh sottolinea come la spesa per le rinnovabili sia ancora un terzo di quanto eh serve. Dal fatto quotidiano alla verità eh si parla di ehm vaccinazioni o meglio di non vaccinati vogliono segregare i non vaccinati. Ci pensano sul serio e lo dicono scrive la verità. Guidorasi consulente generale di Figliuolo chiede di restringere le maglie. Chi è senza puntura verrà chiuso in casa dice la verità. A capodanno c'è non è con mascherina, speranza altri mesi di stato d'emergenza e sono pronti a vietare le eh manifestazioni. E poi anche qui a centropagina la foto del G20 Biden difende l'ambiente con 85 SUV al seguito. Questa la eh sottolineatura della eh verità. Andiamo a vedere anche il gazzettino. Terza dose, i dubbi e le risposte nord-est, focolai di contagi anche tra vaccinati, sale il numero di contagi ma rari i casi eh gravi. La nuova iniezione, l'efficacia delle coperture, le varianti del virus, tutte le cose eh da eh sapere. E poi vediamo anche l'appello del governatore eh del Veneto eh Zaia che dice la scienza eh ci dica se si devono misurare gli eh anticorpi. E poi andiamo a centropagina per altre due eh notizie. Una eh di Cronaca Carosa, la fotonotizia centropagina, matrimonio in vista eh per eh Federica eh Pellegrini e eh Matteo Giunta, Pellegrini Giunta, la divina dice sì, bacio e anello a Venezia, Federica sposerà Matteo. Oggi il presidente eh del eh Brasile, Bolsonaro, Padovano, proteste polemiche e la sindaca dice pago tutto io. Oggi il presidente sarà ad Anguillara Veneta per la cittadinanza onoraria e le sindaco dice basta aggressioni eh spese a eh mio eh carico. Ancora per la eh cronaca vediamo a centropagina eh addio a fortuna al procuratore dei grandi casi eh dal eh i casi degli anni di piombo a eh una eh bomber. Torneremo più tardi sul gazzettino edizione del Friuli adesso rimanendo sulla stampa nazionale vediamo anche il sole ventiquattro ore che apre parlando delle novità eh della manovra sul bonus casa bonus casa duemilaventidue le scelte sui lavori avviati o da iniziare. Ecco nuove scadenze e aliquote a seconda del tipo di incentivo e di immobile sconto in fattura e cessione solo al centodieci per cento sul sole di oggi quindi una eh nuova guida per il bonus casa. Vediamo anche un quotidiano sportivo la gazzetta dello sport ecco la prima pagina eh la pagina che apre eh la ehm Rosea e eh in apertura c'è il eh Milan che ieri sera battuto la Roma per due a uno nel posticipo della ehm eh della giornata di campionato potere Ibra titola la eh gazzetta eh Zlatan Show punizione boom e rigore procurato allo scudetto ci eh crediamo espulso eh Teo e eh Furia a Murigno contro l'arbitro chiesto un penalty nel finale così e non ci eh rispettano titola. In apertura la eh gazzetta dello sport vediamo poi anche l'Inter che ieri a eh San Siro battuto l'Udinese per due a zero. Tucu Tucu ballò Inter Correa nuova arma di un attacco atomico per la doppia eh risalita. Udinese stesa ora la eh Champions per il ehm per l'Inter e eh questa sera l'ultima partita di questa eh undicesima giornata di campionato Bologna eh Cagliari. Anche qui torneremo più tardi sulla gazzetta dello sport perdonare a parlare anche di ehm Udinese ma eh adesso andiamo sui quotidiani locali Messaggero Veneto a piccolo eh Gazzettino e allora cominciamo con il eh piccolo di Trieste andiamo a vedere i titoli di apertura migliaia di firme per eh Trieste titola il piccolo. Alvia una eh petizione eh popolare rivolta a chi crede nella scienza. Non siamo la città dei no eh Green Pass. L'appello è stato lanciato ieri da ehm Mitya eh Gialuz, il presidente della società velica Barcola eh Lignano e ha già raccolto tante adesioni sul web. Allora andiamo a sentire il servizio che abbiamo realizzato anche eh noi e che ci riassume un po' i contenuti di eh questa petizione. Il ruolo di Trieste come capitale italiana no Vax e no Green Pass proprio non gli va giù. Per questo alcuni nomi noti del mondo triestino si sono uniti per lanciare una petizione per difendere l'utilità dei vaccini e il certificato verde. Alla loro testa si sono messi i presidenti della Barcolana Mitya Gialuz e della fondazione CR Trieste Tiziana Benussi lanciando un appello sulla piattaforma change.org. Appello a Trieste perché Trieste è scienza, lavoro, cultura e responsabilità si legge sul sito dove le firme sono arrivate in poche ore a migliaia. È nata l'idea che Trieste sia la capitale italiana dei no Vax, dei no Green Pass e della cultura antiscientifica. Trieste non è questo e vuole dirlo a gran voce. Questa è la spiegazione a cui si aggiunge Trieste è la capitale italiana della scienza e della scienza si fida. La petizione chiama quindi ha raccolta la grande maggioranza dei cittadini che si sono vaccinati mettendo in sicurezza se stessi e adempiendo a un dovere di solidarietà sociale scolpito nell'articolo 2 della Costituzione e richiamato dalle massime autorità civili e religiose. È venuta l'ora della responsabilità di tutti. Intanto l'idea dei primi cittadini dei vari capoluoghi in regione è quella di mettere un freno ai cortei pensando ad ordinanze più restrittive contro gli assembramenti legati alle manifestazioni contro il Green Pass. Dopo Roberto Di Piazza sulla linea simile si muove anche Pietro Fontanini che intende chiedere al prefetto di evitare le manifestazioni in Piazza Libertà. Se ne parlerà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si riunirà nel corso della prossima settimana così come a Pordenone. Sarebbe un fatto gravissimo, replicano dal Comitato No Green Pass Triestino, se si volessero impedire le legittime manifestazioni di dissenso da parte della popolazione. Sarebbe l'ennesima manovra politica attesa a denigrare e squalificare le istanze di migliaia di cittadini e cittadine che si oppongono alle misure del governo. Rimaniamo sul piccolo a centro pagina, rimaniamo in tema perché oggi il piccolo propone un'intervista a un lavoratore portuale contagiato dal Covid ricoverato a Cattinara. Dice io portuale ricoverato a Cattinara, state attenti. Questo è il titolo dell'intervista. Dalla prima pagina del piccolo di Trieste, andiamo a vedere adesso il messaggero Veneto, messaggero Veneto di Udine. In apertura anche qui i temi della sanità legati in qualche modo al coronavirus. Mille precari anti-Covid assunti nella sanità. Sono medici, infermieri e operatori che erano stati ingaggiati per fronteggiare l'epidemia, l'emergenza coronavirus in Friuli Venezia Giulia, dunque in apertura del messaggero Veneto di Udine. E poi a centro pagina una notizia di cronaca. Addio a Luigi Reitani, illustre germanista che fu anche assessore alla cultura del comune di Udine. Questa è la notizia a centro pagina. Allora andiamo a vedere anche il nostro servizio. Il Covid è stato fatale al professor Luigi Reitani, ex assessore alla cultura di Udine nella prima giunta a Onsel e uomo di cultura di caratura internazionale. Reitani, 62 anni, viveva da anni a Berlino con la famiglia dove aveva rappresentato l'Italia intera come direttore dell'Istituto di Cultura Italiano fino al 2019. Ordinario di letteratura tedesca all'Università di Udine, Reitani era uno dei massimi esperti internazionali di Friedrich Hölderlin e in generale di letteratura in lingua, tanto da essere inserito in tutti i comitati delle società letterarie tedesche. La sua edizione critica dell'opera di Hölderlin, scritta in tedesco e poi tradotta per Einaudi, è considerata uno dei capisaldi della letteratura recente. Uno studioso a tutto tondo, esperto anche di traduzione, spiega la direttrice del Dipartimento di Lingue dell'Università di Udine, Fabiana Fusco. Aveva un raffinato gusto per la traduzione e quindi oltre ad essere uno studioso dedito era anche un ottimo divulgatore, molto apprezzato dagli studenti. Siamo increduli. Reitani aveva contratto il virus da poco, ma la malattia non gli ha lasciato scampo nonostante la vaccinazione che aveva ricevuto. Nel giro di pochi giorni è stato ricoverato in Germania fino all'esito fatale dell'infezione. Mi ha lasciato un amico, racconta con profondo dolore l'ex sindaco di Udine, Furio Onsel, ma soprattutto ci ha lasciato uno studioso dal grandissimo prestigio. Uno dei più grandi germanisti, non solo italiani, ma europei, e anche un uomo dal grande impegno politico in cui riversava la sua spiccata sensibilità artistica. Come assessore, ad esempio, ricorda Onsel, si spese per fare del teatro Giovanni D'Audine un teatro di produzione, invece che solo un palco ospitante e spettacoli altrui. Andiamo avanti con la prima pagina del Messaggero Veneto di Spalla. Troviamo altre notizie di cronaca. Una ci arriva da Tarvisio, dove una coppia di persone è stata aggredita da un cervo mentre stava passeggiando in via Roma. Tarvisio passeggiano vicino a casa e un cervo li carica, sono stati portati in ospedale. Poi ancora, vediamo sempre per la cronaca, non ce l'ha fatta l'imprenditrice agricola caduta da una scala a Valvasone Arzene. E sempre per quanto riguarda la cronaca, docente dell'ENAIP stroncato dal male, aveva 53 anni. E poi ancora una truffa online. Attenzione alle mail che riceviamo. Ce n'è una che gira e che dice c'è un pacco per te, clicca questo link. L'ennesima truffa. Andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo dedicato a Udine e provincia. Vediamo le notizie principali. L'articolo di apertura nel taglio centrale senza Green Pass. 77 autisti su 442. Ogni giorno saltano 600 corse. Si fa dunque il pubblico sul servizio di trasporto pubblico. La rabbia di un gruppo di conducenti presenti al lavoro dice ci insultano ingiustamente. Eravamo già sotto organico. E nel taglio alto la storia di una madre. Mia figlia è abbonata ma devo portarla io a scuola in auto. Andiamo sulle pagine di Pordenone del Messaggero Veneto. Vediamo anche qui i titoli principali. In apertura vediamo la stessa notizia, lo stesso titolo dell'edizione di Udine. A centro pagina completato il murale ideato dopo l'aggressione allo studente autistico. Si chiama Anima vive il progetto dell'associazione Torre per rallegrare e ingentilire alcuni angoli dei quartieri con disegni e rappresentazioni artistiche. E poi ancora andiamo di spalla e vediamo anche qui la scomparsa della signora di 64 anni caduta da una scala. E poi è omaggio al musicologo Bortolotto ma l'eredità non è stata ancora accettata. Risparmio pordenonese nel salvadanaio depositi per 6 miliardi. Ieri era la giornata del risparmio ed è stata anche l'occasione per fare un po' il punto sui risparmi ehm dei eh friulani. Una sera cena con rigge di beautiful autografi sulle bottiglie ad Azzano eh decimo. Andiamo anche qui nelle pagine interne e andiamo a eh vediamo anzi nel nel taglio basso un richiamo alle pagine sportive all'udinese senza attacco a San Siro cala subito il eh buio poi come sempre andremo anche sulle pagine sportive. Adesso vediamo la prima del messaggero veneto di eh Pordenone con eh il tema eh covid no pass presidio senza corteo al vaglio regole più restrittive. L'abbiamo sentito eh prima nel nel nostro servizio. Prende forma il progetto di chiedere agli organizzatori garanzie rispetto alle normative eh anti covid. Dal messaggero veneto di Pordenone andiamo adesso sulle pagine del gazzettino del Friuli e vediamo anche qui i titoli eh locali. Tamponi le farmacie al collasso. Centinaia no continua scusate il super lavoro per eseguire migliaia di test al giorno. Federfarma complicato ampliare gli orari alla sera e nei eh festivi. Ieri intanto un nuovo record di contagi saliti a quota duecentonovantacinque più ricoveri. I sindaci chiedono la linea dura eh sulle eh proteste. E poi a centropagina ecco un'anticipazione delle ehm delle notizie sportive. Abbiamo concesso troppo. Dice eh mister Gotti vince l'Inter. Bianconeri in eh ritiro da eh mercoledì. C'è stata eh ieri un'altra ehm c'è stato un altro grave infortuno. Fortunio in montagna lo vediamo di spalla precipita eh dalla eh Creta Monuments un escursionista austriaco ha perso la vita ehm ieri sulle montagne eh Friulani aveva eh 41 anni. E poi il trasporto pubblico Friulani soddisfatti. Più di un terzo utilizza il treno e il settantotto per cento apprezza il eh servizio aumenta la speranza di vita in Friuli Venezia Giulia. Questi altri dati che arrivano da un'analisi eh del degli ultimi dati appunto a disposizione sulla eh durata media della vita in Friuli Venezia eh Giulia. Rimaniamo sulle pagine del eh Gazzettino eh ma eh ci spostiamo sulle pagine eh sportive. Allora vediamo l'apertura del fascicolo sportivo in cui si parla appunto di Udinese, San Siro fatale, titola il eh Gazzettino e poi vediamo otto gare senza vincere scatta il ritiro da eh mercoledì di fronte ai campioni d'Italia dell'Inter. I bianconeri resistono solo un tempo decide. Una doppietta di eh Correa. Allora andiamo a vedere il servizio che ci racconta la gara eh di ieri a eh San Siro. Si interrompe nel giorno di Halloween la parecite dell'Udinese dopo quattro X consecutivi ma San Siro. Arrivano a sconfitta per a due a zero per mano dell'Inter. Dell'altro Tuku Correa che segnerà doppietta decisiva e stendi bianconeri che allungano otto. La striscia di partita è senza vittoria. Gotti lancia Iaio in mezzo al posto di Wallace e conferma success con Deulofeo che parte dalla panchina. L'Udinese si difende bene e non concede grandi chance all'Inter in avvio di match. Barella ci prova da lontà. Palla alta. Poi arriva la prima vera grande occasione per i patroni di casa. In contropiede Dzeko gestisce benissimo. Serve Correa che imbuca per Barella che calcia raso terra trovando la grande parata di Silvestri che con i piedi gli dice di no. L'Udinese non riesce a tenere un pallone che sia uno e l'Inter inizia a crescere da una rimessa laterale di Perisic. I bianconeri liberano l'area. Il pallone arriva ancora. Barella ma l'estremo difensore bianconero evidentemente ha un conto aperto con l'ex centrocampista del Cagliari e gli nega ancora il gol. Il primo tempo si conclude a reti bianche ma nella ripresa l'Inter la sblocca al minuto 60. Velo splendido di Cialaroglu per Correa che parte in velocità. Noiting lo marca con lo sguardo facendola andare sul suo piede forte. l'attaccante Nerazzur ringrazia e col destro fa 1-0. L'Udinese adesso balla tremendamente e l'Inter sfonda. Correa mette dentro per Dzeko che si fa in qualche modo ipnotizzare da una Silvestri in versione Superman con Wallace che poi salva definitivamente su Danfris. Ma il 2-0 è nell'aria e arriva puntuale. Pochi secondi dopo Larsen si addormente e si perde Danfris pallona rimorchio per Correa che ringrazia e realizza la doppietta personale e la sua seconda in stagione dopo quella messa a segno ad agosto contro il Verona. Ancora Inter che adesso gioca sul velluto. Sanchez per Dzeko. Dzeko per Vidal con il Cileno che calcia a lato andando vicino alla Tris. L'Udinese si vede solo nel finale con Deulofeo che riceve da Araslane. Calcia col destro trovando una grande risposta. Diandanovic finisce quindi 2-0 per l'Inter con i nerazzurri che hanno meritato. Il successo passo indietro invece dell'Udinese che oggi non si è praticamente mai vista. Adesso c'è il sassuolo prima della sosta. L'imperativo è vincere per non vedere le streghe. E allora torniamo sulle pagine del Gazzettino e vediamo appunto l'articolo che titola Correa sorprende l'Udinese. Friulani compatti nel primo tempo ma nella ripresa cedono all'Inter. Pozzo manda la squadra in ritiro. L'Argentino si è acceso all'improvviso con una doppietta. Silvestri decisivo due volte su Barella. Ancora sempre sulle pagine del Gazzettino vediamo le pagelle. Silvestri Baluardo titola il quotidiano. Solita prova generosa da parte di Machengo mentre Iaialo presidia la metà campo. Pereira più fumo che arrosto. Deulofeu entra e dà la scossa. Beto opaco. E poi vediamo appunto le pagelle con un sei e mezzo a Silvestri e anche a Becao. Cinque e mezzo a Noiting e poi ancora sei a Samir. Cinque e mezzo a Molina. Sei a Iaialo. Cinque e mezzo a Wallace. Sei a Machengo. Cinque e mezzo a Darslan. Sei per Verlarsen. Cinque e mezzo a Udogi e anche Pereira. Sei per Saxess e Deulofeu. Cinque per Beto. Sei per Mister Gotti. E vediamo anche le parole di Mister Gotti che dice abbiamo concesso eh troppo. E poi ancora sempre sulle pagine del Gazzettino vediamo eh nel eh taglio basso l'amarezza di Becao che dice gli errori si pagano e sul fronte Inter Ranocchia vogliamo arrivare in eh fondo. Rimanendo eh dalle pagine scusate del eh Gazzettino andiamo adesso su quelle del Messaggero Veneto. Vediamo anche qui i titoli eh dedicati eh all'Udinese. Ecco la doppia pagina che apre il fascicolo sportivo. Udinese difesa senza attacco due lampi di Correa e cala il buio. Titola il messaggero Veneto. Un'ora in trincea con l'Inter senza sfruttare neppure le ripartenze. Poi la doppietta dell'argentino e i bianconeri vanno in eh ritiro. La società vuole che la squadra faccia gruppo da domani alla gara col eh Sassuolo. Resta la magra consolazione dei trecento tifosi dopo ventidue mesi di nuovo alla scala del eh calcio. E vediamo anche qui nella pagina eh successiva le eh pagelle con eh Silvestri il migliore. Sette Silvestri miracoloso su Zecco, Beccao e Larsen, giornata eh no. E vediamo poi anche qui tutte le eh pagelle. Rimaniamo sulle pagine del eh Messaggero Veneto per un passaggio anche sulle pagine dedicate al eh Pordenone perché oggi ehm il Pordenone eh scende in eh campo ehm nella eh gara eh nel posticipo di serie B a Lignano contro la eh Cremonese. Cremonese da battere Pordenone senza scelta. Titola il messaggero Veneto. Difesa in emergenza ma la prima vittoria non può sfuggire e Tedino dice dobbiamo aggredire la partita fin dall'inizio. Si gioca questo pomeriggio alle eh diciotto. Ha giocato e ha vinto invece ieri la pallacanestro Udine in trasferta contro Piacenza. L'Old Wild West ha il piglio giusto. Piacenza battuta subito avanti la più beneficia del buon rientro di eh Lacey. Walters unica nota negativa ma Pellegrino fa l'americano eh scrive il messaggero e poi vediamo la cronaca della gara vinta da Udine per ottantacinque a eh settantacinque. Chiudiamo questa pagina eh queste pagine del messaggero eh Veneto e eh torniamo velocemente sulla Gazzetta dello Sport e sugli altri quotidiani sportivi nazionali per chiudere la nostra rassegna stampa. Sulla Gazzetta dello Sport diamo un'occhiata alle pagine in cui eh si parla di eh Inter Udinese eh si parla più che altro di Inter eh Inter attacco atomico. Correa all'ultimo eh l'ultimo tesoro di Simone quante armi per eh risalire in vetta. La doppietta dell'argentino con l'Udinese conferma che i eh campioni eh d'Italia davanti sono super oltre alle certette certezze eh Zecco eh Lautaro cresce pure Sanchez. Inzaghi lancia un messaggio al club. Adesso rinnoviamo presto anche eh Brozovic. Questa la pagina della Gazzetta dello Sport dedicata alla gara fra Inter e eh Udinese prima di cambiare quotidiano un flash veloce anche sull'altra copertina dove trova spazio la ehm eh questo è il terzo tempo scusate andiamo a recuperare eh l'altra copertina dove trova spazio dicevamo la medaglia eh d'oro per la ginnastica eh artistica farfalle colorate d'oro Italia mondiale da leggenda il misto è un volo perfetto le fantastiche cinque dominano nell'esercizio con i tre cerchi e le quattro clavette battute Russia e padroni di casa giapponesi è la medaglia che eh volevamo dicono le atlete della eh nazionale italiana di eh ginnastica ehm ritmica. E adesso andiamo sulla prima di Corriere dello Sport e Tutto Sport per chiudere il eh quadro. Allora Tutto Sport apre con eh comanda eh Max Juve SMS ai eh giocatori. Ieri eh confronto durissimo fra Allegri e la squadra. Da oggi tutti in ritiro. la società sta con il tecnico domani prima possibilità di riscatto in Champions League contro lo eh Zenit e poi nel taglio alto Toro a tutta birra. Iuric ormai è un idolo dei tifosi Granata dopo la splendida vittoria sulla Sampa festeggiato in un pub in mezzo alla gente. per il duello scudetto secondo tutto sport è Ibra Napoli. Ibra Imovic contro il Napoli ma all'interno molla Zlatan trascina il Milan a Roma. Spalletti vince il derby con Zielinski. Correa tiene in scia eh in Zaghi. Andiamo anche sulla prima del Corriere dello Sport stadio che a proposito della corsa per lo scudetto titola un paradiso per due. A Spalletti il derby di Salerno uno a zero. Piori passa all'olimpico con Superibra due a uno. Milan e Napoli in fuga più dodici sulle quarte. Furia Roma su eh Maresca. Ma l'inter appunto non molla. Correa stende l'Udinese e domenica il derby. Questa la prima pagina del Corriere eh dello Sport con la quale chiudiamo questa rassegna stampa di oggi. C'è solo il tempo per ricordarvi velocemente gli appuntamenti principali di questo lunedì sulla nostra rete. Noi ci rivediamo come ogni giorno alle dodici per la prossima finestra in diretta dedicata all'informazione. Alle tredici e trenta vi riproporremo la replica dell'altra domenica andata in onda ieri. Alle quindici pomeriggio calcio. Alle sedici il Tg. Alle diciassette e quindici potrete vedere la gara di basket tra Piacenza e Udinese. Alle diciannove il Tg della sera. Diciannove e trenta pillole di fair play. Alle ventuno come ogni lunedì l'appuntamento è con il Tonight e alle ventidue e trenta l'ultima edizione del nostro Tg. E' tutto per il momento. Vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro ancora una buona giornata. Ben trovati a tutti gli amici di Udinese TV. Previsione per la giornata di lunedì. Questo mese di novembre esordirà con la pioggia sul frio di Venezia Giulia per l'arrivo di un'intensa perturbazione da oveste. Soprattutto durante il pomeriggio e la serata piogge battenti non solo in montagna ma anche in pianura. Andiamo al dettaglio. Tra Pordenone e Udine ritroveremo via via molta nuvorosità con piogge più consistenti tra il pomeriggio e la serata. Attesi picchi anche oltre i 100 mm di precipitazione sulla Carnia. Massime del pomeriggio al di sotto di 14-15 gradi e poi clima molto fresco di notte. Per quanto riguarda invece Gorizia e Trieste giungeranno le precipitazioni anche qui soprattutto durante le ore serali sotto forma di rovescio. I venti sostenuti, segnaliamo venti tesi da sud-sud-est di Scirocco con mare inserata a mare adriatico. Molto mosso agitato. Tutti i dettagli precisi li trovate però scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Grazie a tutti. Grazie.